Eeeh, what's up? Tutti ci sono e benvenuti ragionieri in questo nuovissimo episodio sui pilastri della terra Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo conosciuto un nuovo personaggio Sarebbe a dire Jack, questo ragazzino meraviglioso dai capelli color pelle di carota Siamo arrivati qui in paese e attualmente il nostro obiettivo è quello di seguire Tom Per cui vediamo un pochettino che altro possiamo fare da qui che i villaggi prendono l'acqua Possiamo interagire Ok mamma stai tranquilla non ti preoccupare possiamo parlare anche con lei Ah ma che bel disegno Ok tu sei molto amalfitato mi sembra Nessuna delle tue mi sembra per cui direi scrollare spalle Sì ma lo so è normale stai tranquilla Forse parliamo prima con la piccola Marta magari Possiamo parlare con lei se no No Vici Ma non lo so probabilmente sì Non lo so vabbè andiamo ragazzi attraversiamo il cortile e vediamo un pochettino Dove siamo noi? Ah eccoci qua ragazzi non mi vedevo Sali sulle mura non credo direi proviamo ad attraversare il cortile E vediamo un po' dove diavolo sarà andato Tom che ci ha lasciati qua da soli come imbecilli Verso il porte andiamo Jack Oh Ah Quanto sia essere scortese Evidentemente è quello che si merita sto caffone Probabilmente vabbè noi ce ne andiamo comunque verso il forte Stupido caffone Eccolo qua Tom Che spiega Ah Eccolo ci ha detto una fregnaccia praticamente A posto quindi non abbiamo possibilità nemmeno qui Fantastico oserei dire Proviamo a parlare di nuovo con lui magari che ne so riusciamo ad ottenere qualcosa Aliena bel nome voglio far visitare la lady Tanto non ci lascerà passare comunque C'è stato un po' di più Non ricevere più visitatori oggi, almeno non i scoundrels, non dopo questo bambino che ha cercato di proposte a loro, di nuovo. Sostina? No, non era mia intenzione, sinceramente. Andiamo via. Ciao. Ah, qua c'è una lettera, ragazzi. Possiamo andare a prenderla? Bruciata. Vediamo un po'. Attendo la nostra unione con grande entusiasmo. Mio padre è uno degli uomini più ricchi del paese e il tuo è il conte di Shairing. Saremo ricchi come nessun'altra famiglia, ma non deve irrossire il pensiero del nostro prossimo incontro, mia lady. Andrei più che bene? Mio padre ci sta facendo costruire una casa, tu cucinerai, pulirai, baderai agli ospiti e ai miei cavalli. Sì. Delle lunghe notti saranno la tua ricompensa. Ma vaffa, eh? Così, direttamente proprio. Vabbè, la guardia possiamo parlare? Sembrerebbe di no con sta tipa. No. Vabbè, torniamo verso il cortile. A Shartesbury? Ah. Beh, sarà difficile. Ah, niente. A Shartesbury nemmeno, ragazzi, ci sono posti di lavoro. C'è che sfiga. Col cavaliere ci permette di parlare. Magari riusciamo ad ottenere qualche informazione da lui. Salve signore, mi scusi il disturbo. In che senso? Sei un cavaliere? Parliamo di no? Ah, sbatti le palcebre. Ma in che senso, scusa? Cosa dovevo fare? Vabbè, riproviamo. Andrei presto in battaglia. Non lo so. Sì, sì, dimmelo, dimmelo. Marrone. Ma perché? Ma scusa. Vabbè, andiamo via, ragazzi. Ma che significa? Cosa dovrebbe aver significato tutto questo? Cioè? Ma qua è Tom. Non l'avevo visto. Va a quel paese. Anche un uomo può vedere che questi cittadini necessitano lavoro. Se l'Ell non preoccupare sulle stelle e sulle città, potrebbe essere qualcosa di altro. Sapresti costruire un castello? Certo, certo. Tipo, fra venti secoli. Com'è perché hai bisogno di un lavoro? Comunque ti hanno rifiutato, Tom. Eh, non va bene, Tom. Cosa stai cercando? Cosa stai cercando? E se lo faccio? Cosa stai cercando? Cosa stai cercando? Cosa stai cercando? Cosa stai cercando? Andiamo via E cerchiamo Dei danni all'interno di questa struttura Ok si tranquillo Tom Ci penso io Tom Io direi di provare a tornare qui ragazzi E per esempio questo dovrebbe essere riparato Il pozzo è in pessimo stato infatti Mi ricordavo che qua c'era un buco Per cui questo potrebbe essere un buon motivo Per andare da Tom e dirgli Io Tom guarda che il pozzo deve essere riparato Ah minchia Ok quindi dobbiamo di nuovo trovare ragazzi qualche danno E comunque tenere le orecchie aperte Per quanto riguarda il conte Allora le mura qua sono tutte sfasciate per esempio ragazzi Proviamo così Quel pezzo di muro sembra rotto Perfetto Adesso glielo andrò a comunicare subito a Tom Ok minchia però Sì mamma tu hai veramente Pretendi troppo da me Perfetto Dobbiamo chiedere informazioni a qualcuno ragazzi Informazioni a qualcuno Riguardo il conte Proviamo a parlare con loro Sì proprio Ma perché scudo dovrei fare una cosa del genere Questo è il conte Questo è il conte Ah Oh ragazzi Un titolo non garantisce niente mio figlio Non lo capisco Coscia di cuolo Possiamo prenderla Non credo È a fianco al tipo No Adesso ci picchia Ecco Sapevo Siccome il mio tempismo fa schifo Ovviamente Ok ci siamo Perfetto Mi sembra strano Che non ci abbia visto Ma insomma fa niente Che non so se possiamo darla A Marta o Alfred Aveva detto Che erano affamati Va bene Non è che abbiamo potuto scoprire chissà cosa Effettivamente Direi di ritornare qua E dare uno sguardo Un po' qua intorno Sedessi la coscia di pollo ad Alfred Che stava tanto rompendo le scatole Che aveva fame Tieni Rompiscatole Avrei dovuto darla a tua sorella Effettivamente Un grazie Quindi adesso siamo buoni amici Certo Quasi mi insulti Ci deve essere qualcosa Che qui ci sfugge Ah i parapetti qua Sono tutti Sfragnati ragazzi Forse è quello Che dobbiamo controllare adesso Spero sia l'ultima cosa Dobbiamo cercare Perché Gianna Non è possa andare in giro Così a perdere tempo Effettivamente Ecco qua I parapetti cadono a pezzi Ovviamente Ok Torniamo verso il cortile Andiamo ad informare Tom Ah beh Perfetto Ma da chi dovrei sentire qualcosa di importante sul conte? Non posso parlare con nessuno Cioè forse avrei dovuto dare la coscia di pollo A questi due imbecilli ragazzi Ma hanno detto di rubare qualcosa da mangiare al forte Magari Qua con i lavoratori possiamo parlare Vediamo un attimo Non mi han cagato La ridai la Ecco scena di pollo E' gentile direi Davvero Che dici? Se tu e tu e tua madre Vogliamo stare Potremmo imparare A fermare E mettereci a seconda Wow Grazie Questo è il ringraziamento Per averti portato pure la coscia di pollo Alfred pensa che a Tom Non importi nulla di lui Perfetto E se lo dicessi a Tom Tieni Tom Vuoi sapere L'ultima Tom? Figurati Bene Quindi non c'è altro da fare Praticamente Fantastico Grigio come cenere Grazie Ovvio Qual è il tuo dannato segreto Catchpace? Sì certo Dimmelo No Non mi ha dato il tempo di rincare E' un po' di rincare come è fatto a far cessare l'assedio? ok andiamo via forse è un indizio cioè nel senso che essendo il pozzo ragazzi importante ovviamente per un castello o quel che sia magari se dovesse crollare potrebbero aver bisogno di un muratore per cui vediamo un attimino se il cavaliere ci ha dato un buon consiglio proviamo ad usare la pionda sul pozzo ma non credo che farà qualcosa di utile si figurati grande ruolo ah ok finalmente abbiamo ottenuto ragazzi un nuovo obiettivo da poter sfruttare e immagino che questo potremo utilizzarlo su Marta anche se sinceramente non ho la minim idea di come questo possa aiutarci a proseguire però proviamo e vediamo cosa succede Marta c'è davvero una principessa qui ma non mi fa passare effettivamente come 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 no spiegatemi se c'era il tipo con la scopina non mi faceva passare manco se lo pagavo oro quanto pare serviva la bambina per fai e pena ok perfetto dai sono due bambini bene meno male ragazzi meno abbiamo sbloccato qualche altra cosa cara aliena sarà un onore conoscervi se la principessa un pochino ma magari di qualcosa in intelligente che gioia un croce alle braccia che gioia argomenti felici quella è la mia madre è la mia mamma semmai oh vogliamo parlare non ho mai avuto un padre vogliamo parlare di argomenti felici che c'è da ridere non ho mai avuto wow magari è pericolante è un castello, quindi mi dovrei stare a stare qui per un lungo tempo e ciao ok la principessa mi ha detto che il conte si aspetta un attacco perfetto, questo potremmo forse comunicarlo a Tom credo aha ok ci siamo io direi di andare a comunicare questa notizia a Tom ora notizie a Tom ti farà piacere Tom sapere quello che ho scoperto Tom il conte semmai davvero grazie vediamo ah di nuovo dici mhm che il castello fa schifo va bene che il castello fa schifo e se tu eri l'Ele come ti prevederai ho un paio di stoni preparato e un prodotto di santa e linea da morta mhm e un mason stiamo andando stiamo andando pronti ahah matthew potrei avere un po' perfetto perfetto magari siamo riusciti a a infiltrarci perfetto perfetto certo certo perfetto Alfred perchè sei un builder penso che hai una cosa in bene mamma capitolo 3 sarebbe dire la cospirazione hai chiesto e ottenuto l'aiuto del vescovo walron hai dato a marte il tuo cavaliere di paglia per darle coraggio tu e la tua nuova famiglia avete raggiunto Earl's Castle hai dato ad Alfred qualcosa da mangiare e hai insaldato la vostra amicizia hai conquistato la fiducia del Sir Catface e sei venuto a conoscenza del suo segreto hai retto d'aliena del padre di Jack hai trovato la lettera di William Hamlet per Lady Aliena hai aiutato Tom a trovare lavoro a Earl's Castle perfetto direi che sono tutte cose abbastanza positive tranne l'amicizia con Alfred che insomma mi importava poco e niente per cui direi di accettare tac minchia ne mancano ancora 4 ragazzi per completare il libro 1 soltanto il priore di Kingsbridge si a Kingsbridge quello stesso giorno eccoci qua di ritorno da film bene già ci abbandoni allora mamma mia ma anche no Helen sì c'è c'era un incidente con uno dei nostri novici che tipo di incidente quando mi ha incontrato lui stava all'interno non poteva camminare ma camminare c'era abbiamo chiamato per lui ma non si riuscì non si riuscì non si riuscì e non era la prima volta che il brano Marcus si riuscì il brano Marcus il brano Marcus il ladro ragazzi si riuscì il ladro si riuscì si riuscì a Remigius si riuscì ma è praticamente un figlio direi di sì cioè se avessi saputo questo qua io lo devo cacciare via eh non è più accetto qui cacciare Remigius accalci in culo semplicissimo cioè così si può eh cioè fra queste cose qua cose tutte importanti principalmente oddio ripara la cattedrale mica tanto direi cioè comunque rinnovare un po' sto posto direi non dovremmo fustigare i nostri novizi cioè la violenza fisica perché meno male siete d'accordo ok che sta succedendo? che sta succedendo? oh Phil come si perché? perché 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 Francis? vabbè ragazzi allora mi ha appena salvato la partita direi che la prossima volta riprenderemo da qui volevo informarvi del fatto ragazzi che la mia attuale intenzione su questo gioco è di finire il primo libro e di vedere poi come siamo messi a seguito della serie ragazzi perché vedo che purtroppo le views di questa serie vanno man mano diminuendo e quindi capite benissimo ragazzi che se ogni video vabbè che già a prescindere comunque non ci sto guadagnando nulla quindi non è questione di guadagno o no è questione ragazzi di magari utilizzare il mio tempo per dedicarmi a serie che possono piacere magari ad un numero un po' più ampio di persone questo ovviamente sarà tutto comunque da vedere nel senso che ovviamente una volta finito il libro 1 non vorrei abbandonare la serie perché comunque sono interessata anch'io a sapere come vanno le cose e come va a finire per cui una volta finito the wardrobe per il quale non credo che manchi tanto probabilmente continuerò comunque questa serie ma poi porterò serie ragazzi completamente diverse perché ho portato già tre punte clicca e a quanto pare il genere non è molto apprezzato anche se voi ben sapete che io di solito ragazzi faccio serie comunque a prescindere indipendentemente dal seguito però vi renderete conto che questo per esempio è un gioco molto lungo per cui significherebbe dedicargli tanto tempo sopra il mio canale quindi non voglio che magari buona parte del mio seguito ragazzi si sente esclusa tra virgolette perché non è amante del genere non so se riuscite a capire il mio ragionamento per cui una volta finito il libro 1 e intanto avrò iniziato altre serie vedrò un pochettino come comportarmi ma credo che comunque cercherò ragazzi ovviamente di finire questo gioco questo video termina qui grazie a tutti un bacione un bacione a tutti ragazzi ciao vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni ciao